Perchè Prometeo ha deciso di avvicinarsi al progetto dell'Ancona 1905? Sono diversi anni che l'azienda ha fatto questa scelta di essere vicina ad una delle principali realtà sportive marchigiane e la più importante realtà calcistica di Ancona come fa già fatto per alcuni fenomeni relativi alla cultura, alle attività sociali così anche per lo sport l'azienda crede molto nei valori da condividere con la cittadinanza e con i tifosi. È un'azienda Prometeo che ha sviluppato commercialmente molto le proprie attività però continua a reinvestire nel territorio i propri profitti e quindi questo sicuramente ci permette di essere vicini alle realtà sociali, culturali e sportive più importanti del territorio. Lo sport è sicuramente un racchiude i valori principali che sono anche quelli dell'azienda e credo che in questo momento storico sia anche importante un contributo economico anche se piccolo magari però è importante esserci e aiutare e sostenere queste realtà. Grazie a tutti!